E adesso si fa veramente molto dura. Adesso si fa veramente molto dura perché arrivano delle partite difficili e adesso iniziamo a renderci conto di quanto siamo stati stupidi a buttare le occasioni con la Sardar Titana, con il Verona e di non aver sfruttato meglio certe dinamiche. E queste dinamiche ci sono state anche ieri sera perché è stata una partita in cui il Milan secondo me poteva gestire meglio il risultato e l'Eau dopo l'espulsione diciamo che c'è stata un po' di confusione anche da parte loro e una squadra 11 contro 10. Il minimo che poteva fare era pareggiare e noi siamo riusciti a perdere e questo è veramente un punto cruciale di cui bisogna parlare. Ne parliamo adesso analizzando la partita. Un saluto a tutti gli amici del Corner Sardoriano. Prima di iniziare vi ricordiamo i nostri social Corner di Romastro Sardoriano su Instagram e vi ricordiamo ogni mercoledì sera live sulla piattaforma Viola. Quindi seguitici anche lì ma adesso partiamo con l'analisi. In questa partita, che dire, una Samp che fa fatica, fa fatica. Anche alzando le linee di pressione, anche alzando i terzini, coinvolgendoli anche nelle azioni perché ieri abbiamo visto a Ugello un po' più partecipare alla fase offensiva, così come Berezinski. Quest'ultimo però doveva fare una certa attenzione, visto che nella sua fascia c'era un certo Raffaele Au. Diciamo che è una Samp che nonostante ciò, nonostante questo coraggio, se possiamo chiamarlo così, anche se di coraggio ieri non abbiamo visto tantissimo, non fa niente. È una Samp che non fa paura. È una Samp che è molto lenta. È una Samp che è molto prevedibile. Samp che sviluppa in maniera veramente lenta il proprio gioco e se non hai i giocatori che ti creano spunti, se non hai i giocatori di rapidità, perché se il Sabiri che abbiamo visto l'anno scorso non ti riesce a riproporre quelle prestazioni, diventa un problema. Perché Sabiri sta avendo un'involuzione pazzesca. È sempre un buon giocatore, non sto dicendo che sia un bidone, però anche ieri abbiamo visto un Sabiri molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto. Complice anche il solito discorso, è sempre lontano dalla porta. Bisogna aspettare l'arrivo di Wings perché sarà un valore aggiunto e ce ne renderemo conto quando entrerà in campo. Però fino a questo momento abbiamo visto un Sabiri che sta facendo abbastanza fatica. Diori Cicci anche ieri ha sfornato nel complesso una buona partita. È uno dei pochi giocatori che riescono a creare pericoli. Un altro caputo insufficiente a parer mio. Fa fatica a tenere il pallone, fa fatica a far stendere la squadra. Villar confusionario. Ci aspettavamo di trovare il professore spagnolo? Assolutamente no. Assolutamente no. È un giocatore normalissimo, almeno per quello che ho fatto vedere ieri e nelle scorse partite. È un giocatore normalissimo che sta facendo molta fatica ad adattarsi al gioco di Giampaolo. Diamo di tempo, assolutamente. Siamo ancora alla quinta giornata, però qualche somma dobbiamo iniziare a tirarla. Perché, come ho detto prima, la Samp sta iniziando a perdere dei punti fondamentali. Quello di ieri poteva essere un punto, tre punti. Io esagero, ma adesso andiamo a vedere perché potevano essere tre punti. E assolutamente è una Samp che paga tutta la vicenda societaria, paga tutto ciò che sta succedendo anche fuori dal complesso Samp, fuori dal campo. Perché si vede proprio dalla testa con cui i giocatori scendono in campo che non è un clima tranquillo. Io non l'ho notato solo, io l'ho notato tutti, anche i presenti allo stadio. Perché ieri i numeri del secolo parlano di 23.000 spettatori. Un mille in meno, diceva Parma, che vogliamo prendere in giro. Ieri, grossa presenza di milanisti. E anche per questo non possono essere 23.000 persone. Perché i distinti erano pieni, la nord era piena, tribuna pure. Quindi, secondo me, ieri siamo sui 28-29.000 spettatori, di cui 5-6.000 milanisti. Quindi un totale di 23.000 sandaliani, più o meno. E questo è un gran supporto da parte del pubblico che ieri ha cantato, che ieri ha incitato la squadra anche nei momenti di difficoltà. Però andiamo a vedere bene nel dettaglio. Una Samp che parte, prende i gol. Da tirare se gioca bello, perché Leao fa un'altra sua grande giocata. Non si muove bene il reparto di sinistra della Samp, specialmente quello difensivo. Secondo me Ogello ha chiuso male. Berezinski si è fatto saltare troppo facilmente da Leao. E arriva questo gol di Junior Messias, che si poteva evitare. Forse a Vodero poteva fare di meglio, ma non mi sento di dare il colpo a lui. Perché settimana scorsa c'è tenuto a galla con il Verona. Poteva fare qualcosa di più, forse sì. Però non mi sento di attribuirgli grosse colpe. Grosse colpe che secondo me ha nel secondo gol, con l'annullato dei Ketelar, in cui poteva comportarsi sicuramente meglio. Fuori gioco attivo di Giroud ci è andata bene, però altre situazioni in cui la difesa della Samp non si è comportata bene. Un Milan, ragazzi, un Milan veloce, un Milan cinico, preciso, che riesce a fare gol anche sfruttando le poche occasioni che ha. Ieri l'abbiamo visto, con il gol annullato, con il gol un'altra occasione grossa di Giroud nel primo tempo. D'altra parte è una Samp che, tranne la traversa di Djuricic, non ha creato grossi problemi alla difesa di Milan nel primo tempo. Nel secondo, dopo l'espulsione di Leao, il Milan ha cambiato totalmente il sistema di gioco. Si è passati alla difesa 3, l'ingresso in campo di Tomori. Secondo me ha fatto bene Pioli. L'ha gestita molto bene perché su quella fascia il Milan stava soffrendo. Era quella in cui la Samp spingeva un po' di più, quella di Augello. Il gol è arrivato da lì. Cross di Augello, bravissimo di Djuricic, che si è mosso molto bene e riesce a trovare questo gol meritatissimo. Per me è uno dei migliori in campo di Djuricic. Gestione dei cartellini, gestione dell'arbitro, ne parleremo in live. Ora dobbiamo parlare di calcio, c'è da parlare anche di quello, ma ne parleremo mercoledì sera in live, nella live un po' più da bar, passatemi il termine. Ne parleremo, ci sarà tempo per parlare di questo. Dopo l'espulsione, Milan cambia il sistema di gioco, cambia anche la Samp con l'ingresso in campo di Manolo Gabbiadini. Manolo Gabbiadini che ieri ha provato. E' un giocatore che a me fa impazzire, perché riesce sempre a trovare il modo di rendersi pericoloso, anche mentre sta cadendo, anche in scivolata, però ha un tiro da limite dell'aria che non impazzisce. Quindi tanto mi indiano, ma fa capire quanto Manolo Gabbiadini possa essere pericoloso, possa essere importante per la Samp, è un giocatore che è mancato tantissimo. E per questo la Samp deve ritrovarlo al 100%, deve giocare titolare, assolutamente. Visto anche le prestazioni di Caputo, quando è entrato Quagliarella abbiamo visto un Quagliarella non tranquillo, si è fatto rascinare un po' dall'atmosfera dello stadio, che era molto caldo ieri sera, vista anche la gestione dei cartellini, vista anche ciò che stava succedendo. E comunque c'erano anche tanti milanisti ieri presenti allo stadio, quindi si sentiva un po' la rivalità anche proprio nel campo. Quagliarella che non è stato molto tranquillo, ha buttato anche il pallone, si è preso un'ammunizione, l'arbitro che ferma il gioco è per il pallone sgonfio, ma di questo, ripeto, ne parliamo mercoledì sera in live. Peccato, peccato perché non doveva andare così dopo l'espulsione. E appunto è uscito Brzezinski, è entrato Gabbiadini, si è passati probabilmente un attacco a due con Quagliarella. Il Milan è passato a una sorta di 3-4-2 dopo il gol del 2-1 causato dal fallo di Vigliar. Un'altra piccola parentesi che evidenzia quanto Vigliar stia facendo fatica, perché non puoi tenere il braccio così. È una roba allucinante, giro freddissimo, dagli 11 metri sigla e gol del 2-1. Poi Milan, che in quel caso passa un 3-4-1-1, più o meno, e assolutamente porta a casa il risultato in maniera meritata, secondo me, perché un Milan che ha saputo soffrire, un Milan che ha dimostrato ancora una volta di essere un gruppo forte e completo, perché abbiamo visto delle pedine fondamentali, è entrato Tomori. Non è entrato il primo che passa, è entrato Tomori. In difesa c'era gente come Kalulu, Kier, giocatori comunque di un certo spessore. Poi l'episodio dubbio, rigore e non rigore Sabie, di questo ne parliamo, per me non era rigore, però bisogna parlare anche delle difficoltà della Sampe, ne abbiamo parlato. Un gioco lento, un gioco prevedibile e su questo bisogna assolutamente lavorare in vista della partita con lo Spezia, perché lo Spezia è una squadra in forma che viene da una sconfitta all'ultimo con Napoli, ma è comunque una squadra compatta, un po' come la Salernitana, secondo me siamo lì. Forse ha anche più qualità della Salernitana, ci sono dei giocatori molto interessanti, sarà una trasferta non penso tranquillissima, visto ciò che è successo l'anno scorso, però cerchiamo di andare lì con la voce, cercare di dare il nostro sostegno alla Sampe, che ne ha bisogno, perciò sarà un'altra partita fondamentale, sarà una guerra, perché se non fai tre punti a Spezia diventa veramente molto difficile, perciò speriamo di ritrovarci in un'analisi un po' più serena la settimana prossima, parlando di Spezia e Sampe, sperando di poter parlare di una vittoria. Vi ricordiamo i nostri social, corner-sandoriano su Instagram, e vi ricordiamo di seguirci sulla piattaforma Viola, mercoledì sera live, quindi seguiteci, vi ricordo di lasciare un pollice su, iscrivetevi al canale.